Perché servono 21 giorni per riconquistare l'amore? Intanto non ho detto che in 21 giorni matematicamente si riconquista, ma si possono creare le basi per riconquistarlo o soprattutto per rientrare in contatto con questa persona, perché succede spesso che, diciamo, si creano degli asti, si crea della rabbia, si crea del rancore e allora la persona tende a mettere proprio una barriera, una barriera quasi energetica respingente che impedisce di riuscire a poter interagire con questa persona. Ed è evidente che se non riusciamo ad interagire con una persona non riusciamo neanche a conquistarla, non è possibile conquistare una persona con la quale non riusciamo a interagire. E 21 giorni sono tempo per lasciare sedimentare, diciamo, la rabbia. E' ovvio che se poi tu, dopo 21 giorni, che puoi, diciamo così, riaccedere alla comunicazione, magari lo chiami o la chiami e poi ti incazzi e inizi a dire, ecco, vedi, ti ricordi quella volta là cosa facevi? Oppure ti ho visto che parlavi con quella? Oppure dici, ecco, sei stato uno stronzo due mesi fa, hai fatto sta cosa piuttosto che quell'altra? Allora riaccendi, vuoi dire, riaccendi in nuovo la rabbia, il rancore e il risentimento, quindi devi resettare completamente tutto. Bisogna, quando si rientra, diciamo, entrare in modo molto soft, perché l'obiettivo è quello che l'altra persona perlomeno ci accetti da un punto di vista sociale, da un punto di vista amichevole, senza mettersi di traverso, senza ostacolarci. Perché finché sei una persona di traverso, non potrei mai dargli emozioni, perché l'emozione è come un contenitore, diciamo no, e se il contenitore è già pieno di rabbia e di rancore, non ci sta più il pathos, non riesci più a entrare. Per entrare col pathos, che è l'emotività che vogliamo dare, deve esserci un contenitore vuoto, pronto ad accogliere, e quindi va tolta la rabbia e quindi devi tenere presente questo, devi proprio anche lavorare su di te in questi 21 giorni per farti passare eventuali incazzature, eventuali rabbie che hai, perché poi queste si percepiscono. C'è poco da fare, le nostre parti emotive comunicano, comunicano a più livelli e anche se noi crediamo di non aver detto una cosa, la parte emotiva la recepisce, perché sa molto di più di quanto noi sappiamo a livello logico-razionale. Cioè le nostre memorie a breve termine consapevoli sono molto limitate. Nelle memorie, diciamo, nella parte sottostante, nelle memorie a lungo termine ci sa molta più informazione. E quindi noi dobbiamo avere la possibilità di, diciamo, aver veramente, diciamo, eliminato la rabbia e rancore. Piuttosto, possiamo sì, certo, fare finta, piuttosto che niente, diciamo un proverbio, è meglio piuttosto. Però alla fine poi questa cosa in qualche modo si manifesterà e produrrà i suoi effetti nefasti. Per cui è importante lavorare anche su noi stessi per evitare che si produca rabbia. Nel momento in cui siamo in questa situazione si può ricontattare la persona, molto meglio, diciamo, ricontattare in modo situazionale, cioè con una scusa per riuscire a entrare in contatto con quella persona, in modo tale che questa persona inizi perlomeno ad accettarci su un piano logico. Come dire, il cane da guardia l'abbiamo superato, perché le barriere le mette comunque la sfera logico-razionale. Una volta che abbiamo superato, diciamo, le difese del cane da guardia, che non ci ha zannato, siamo entrati dentro casa, diciamo così, e possiamo piano piano, gradualmente, iniziare a stimolare emotivamente. Dovete tenere presente che ogni volta che diamo emozioni, però il nostro cane da guardia un po' si risveglia. Per cui non dobbiamo farlo risvegliare troppo. Nel momento in cui si risveglia lo rianestetizziamo. Le emozioni poi che possiamo dare sono molteplici. Diciamo da, se c'è ancora un'attrazione, da tensione sessuale, che non vuol dire fare sesso, ma generare, esattamente il contrario, generare stimoli che possano amplificare il desiderio, in modo tale che l'elastico del desiderio si tenda e la persona inizia a provare attrazione, ma anche altri tipi di emozioni, che dovremmo aver avuto l'accortezza di riuscire a decodificare, diciamo, interagendo con la persona. Potrebbero essere emozioni legate ad abbandono, rifiuto, disistima, oppure anche emozioni proprio legate al pathos, al piacere, al piacere di trascorrere dei momenti piacevoli con una persona, a fare delle cose interessanti, che emotivamente coinvolgano. Insomma, dobbiamo, una volta che siamo entrati dentro casa, a dare tutto ciò che possiamo dare per raggiungere l'obiettivo di riprodurre un coinvolgimento emotivo. A quel punto lì, praticamente, il gioco è fatto. Diciamo, se non ci sono dei vincoli esterni, siamo a buon passo sulla riconquista. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando però, i 21 giorni devono passare, altrimenti la rabbia è poco probabile che sia smaltita. Per questo video è tutto. Metti un like, iscriviti al canale, seguimi sul blog seduzionevip.com Ciao!